Ho scelto la tipologia C2 che è l'ultima traccia che c'era della prima prova e parla di Bartali e anche un po' della seconda guerra mondiale e mi sono trovato abbastanza bene su quel tema lì. Da Giuseppe Ungaretti a Leonardo Sciascia, dal generale Carlo Alberto della Chiesa a Gino Bartali. Queste alcune delle tracce dell'esame di maturità 2019 che ha preso avvio oggi con la prima prova scritta dell'esame di Stato, il tema. Ho scelto la traccia argomentativa perché più o meno conosceva abbastanza l'argomento dato che parlava un po' della responsabilità della scienza e quindi diciamo nelle scorse tracce che ho fatto durante i temi in classe ho sempre scelto quello un pochino scientifico. Sette in tutte le tracce con cui si sono confrontati gli studenti delle scuole superiori divise per tipologia, analisi del testo, tema d'attualità e testo argomentativo. Ho fatto il tema argomentativo su quello della bomba nucleare e il tema della scienza insomma. Perché hai scelto questo tema? Era quello più idoneo per le mie conoscenze. Il tema dell'attualità non è che mi piaceva più di tanto quindi alla fine ho optato per il testo argomentativo. Nella Rettino sono in tutto 2875 i ragazzi che questa mattina si sono seduti di fronte alle 77 commissioni. Aspettavate questi temi? Diciamo un po' sì, un po' no. Sull'ambito poesie quindi tipologia non molto. Gli altri un po' sì, sull'attualità ci siamo un po' ritrovati. Insomma, c'è il tema sulla mafia, mi aspettavo il tema sull'ecologia, quindi alla fine più o meno si è ritrovato.